Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video per gli amanti degli svuota la spesa action, eccone uno. Ci sono anch'io, tuo figlio, per chi non mi ricordo ho fatto un po' di video, sono ritornato, ciao, ho 11 anni ora. Sì, va bene, basta. Allora, per chi è amante di action, ecco uno svuota la spesa action. Allora, prima di tutto facciamo vedere questa bellissima, bellissima mini composizione. Questi sono piante vere. Questo è un piattino preso da action alle, aspetta, a 0,99, era in offerta nella scorsa, diciamo così, promozione, 0,99. È un piatto a legno di mango. Di legno di mango, sì, esattamente. Questi invece sono tre bicchierini dei dolcetti di Eurospin, quelli alle creme, caffè, mirto e limoncello, che lavati li abbiamo fatti diventare dei piccoli porta piante grasse. Queste sono vere, eh. Lo possono sicurare. Di pelle, di terra ed è diventato un piccolo centro, sì, l'hanno visto? È diventato un piccolo centrotavola nelle quale le piantine poi cresceranno. E adesso lo mettiamo qui e faranno da sfondo al nostro video. Ok. Metti una manina qui perché ho paura che si ribalti la cosa. Va bene? Ma allora. Allora, io tiro fuori un prodotto e tu ne tiri fuori un altro, va bene? Partiamo. Parto io? No, parto io. No, aspetta che devo tirare fuori anche lo scontrino. C'è un po' di... Perché ce ne saranno anche due di scontrine perché siamo stati due volte. Insieme alle mie cugine. Cugine. Cugine, cugine, cugine grandi. Allora, non dire, sì. Ok, allora, partiamo. Partiamo. Abbiamo preso questo bellissimo dentifricio della colgate. Della colgate, dentifricio che è costato un euro e undici. Non c'è bisogno di aprirlo, tutti sanno come è fatto un dentifricio, quindi è solo della colgate, denti bianchi e costa un euro e undici. Mettilo là, senza schiacciare le piantine. Poi, vediamo. Poi abbiamo preso... Tienilo, eh? Sì, sì. Abbiamo preso questa tovaglia. In realtà ne abbiamo prese due, erano le ultime due. Sono tovaglie anti... idrorepellenti. Quindi si cadono... Nelle sere d'estate, anche se cade qualcosa di... Acqua, vino, bevande. Si assorbe. No, non si assorbe. Basta fare così con un panno e la tovaglia rimane intonsa, a meno che ovviamente l'acqua rimanga su questa tovaglia. Questa è costata... Questa è costata... Lo ne abbiamo preso due. Questa è costata l'una, 5,95. Ha una misura di... 140 per lui, 150. Quindi è un bel tavolo, eh? È anche bella estetica, bella anche esteticamente, questi verdi, questi colori di verdi che è anche molto bella. E poi è anche conveniente, per queste bellissime sere d'estate. 5,95, esatto. Ok, le nostre belle piantine. Poi, pennellino. Questo qui è un pennellino per il make-up. Questo è un pennellino per il make-up, esatto. È di Max & More. Pennellino, che però è anche molto bello esteticamente, perché ha questa parte rosa sull'oro. È anche molto bella, anche la confezione è rosa. Vabbè, comunque questo costava tipo un 99 centesimi. Sì, una cosa del genere. Era una cosa del genere, eh? Poi... Questo qui... È un Deo Rolon Bifase, 50 ml, ai fiori di cotone. C'erano diverse varianti di profumo. Questo è piuttosto neutro, diciamo, giusto? Sì, è molto neutro, però è molto buono. Anche senza muoverlo, dà il suo già, il suo bel profumo. Sì, sì, assolutamente. Si arpotola così, giusto? Ok, e lo si mette lì. E dura ben due giorni. E questo è costato... 48 ore. Esatto, il profumo. 1,39. Poi... Molto economico. Poi, veniamo a questo piccolo giochino. Questo piccolo giochino è un giochino di memoria. Vedete? Un giochino di memoria. Bisogna premere... Ecco, adesso fa tutte. Fa le sequenze. Bisogna premere. Qua esce un colore e io devo premere. Poi diventano sempre più difficili i livelli. Questo è costato... 1,99. Questo è il rumore che fa se uno sbaglia, ovviamente. 1,99. È un giochino, anche per dire, da tenere in macchina. Quando, ad esempio, uno va a fare la spesa e ti dice... Stai sui macchini un attimo che arrivo subito con uno di questi qua. Non ti annoi. Esatto. Ammazzia il tempo. E ti ne è allenata la mente. Esatto. Bravissimo. Poi... Abbiamo preso... Questo porta trucchi, porta make-up, porta profumi. Questo da mettere sul bordo del lavandino. Qui stavamo ragionando, qui si potrebbero mettere dei profumi e qui tutto il make-up, che io non ne so perché sono un uomo, però la mamma lo sa. Esatto, siamo bambino e quindi non puoi saperne. Aspetta che vi faccio vedere bene perché c'era la confezione. Ecco, molto bello, anche esteticamente. Allora, le dimensioni sono 20x13x9, è fatto in bambù ed è costato 3,99 euro. E' un organizer. Un organizer, multi-organizer. In teoria uno potrebbe anche mettere, che ne so, anche le matite volendo, perché comunque non è che è per forza. Certo, uno può organizzarsi in quella maniera. Poi qui abbiamo questo qui che è un... Cosa chiede, mamma? Questo è una matita per fare lo smokey eyes. Quindi, allora, voi lo vedete già aperto qui, perché lo abbiamo aperto noi. In realtà, nel negozio, io li ho trovati praticamente quasi tutti così. Quindi, scartabellando dietro, sono riuscita a trovarmi la confezione invece integra. Allora, adesso noi lo apriamo. Il bello è che le mie cugine l'hanno provato su di me, ma l'hanno provato su di me e andava. Quindi, pensate un po'. Allora, non si tratta altro che... Tieni qua. Tieni. Non si tratta altro che di una matita di quelle che si temperano... Cioè, si auto... Insomma, non dobbiamo temperarla perché è tutta plastica. Quindi, questa è la matita da questa parte e poi c'è lo sfumino dall'altra parte. Per fare appunto l'effetto smokey eye. Molto bella, anche esteticamente, questo nero è molto bello. È un nero. Difficile variare la tonalità di nero, eh. Poi, andiamo con i deodoranti. Hai detto il prezzo? No. Aspetta, eh. No, gli smokey eye. Allora, aspetta, eh. Perché è quello. Attenzione, non far cadere il... Obiettivo. Allora. Usate queste pause. Mettilo in pausa un attimo perché non lo riesco a trovare. Trovato per 1,19 euro. Andiamo avanti. Poi, erano in offerta invece questa tipologia di deodoranti in due varianti che erano la tropical, no cos'è? Tropical desire e sweetest desire. Della giornata. Ed erano, appunto, la settimana scorsa, cioè la settimana di ferro-agosto in offerta. E, per favore, i deodoranti, appunto, Jolie sono costati 0,99 ed erano quindi in offerta. 0,99, 1. L'uno, l'altro. Anche, posso assicurarvi, lo so che voi non potete sentire, però sono ottimi profumi, anche molto buoni. Allora, sono deodoranti. Fresh feeling e fresh feeling, sì. Ok. Bene. E quindi anche questi mettili da parte. Poi... Sì, un attimo, eh. Poi, cosa estraiamo qui? Maschera, maschera in hidrogel. Maschera gold. Maschera in hidrogel viso. Anche questa, un... Adesso non ricordo se erano in offerta questa. Comunque, costata 0,99. Comunque, più o meno, le maschere di Action costano super giù. Dall'euro, 1,10, 1,20, piuttosto che 0,90. Questa è in due parti, quindi non si spezza. Per la parte sopra e poi per la parte... Le maschere non si spezzano. E la questione è che rimane bella dritta, perché comunque non fa le pieghe, perché ha due pezzi e quindi riesci a... Comunque ve la consigliamo molto, perché ce ne hanno parlato molto bene, non l'abbiamo presa in... In hidrogel, quindi vuol dire che è molle, morbida. Si sente già la riconfezione. Esatto. Quindi se andrete mai a Action, tastatela. No, compratela piuttosto. Compratela e tastatela. Eh. Poi, anche questo era in offerta... Cucut. Balsamo praticamente per capelli. Per capelli secchi e colorati. Quindi è un nutrimento intenso. Io avendo i capelli, appunto, decolorati, ho bisogno sempre di nutrimenti intensi. Il profumo è di cocco, quindi molto, molto buono. Perché funziona col cocco. Questo era in offerta sempre la scorsa settimana. Adesso mi sembra che le offerte siano... Terminate. Siano cambiate, comunque, quello che è questo, quello che è questo, appunto, devo solo andare a trovarla. Accidenti, accidenti, accidenti. Balsamo, eccolo qua. Balsamo per un euro e ottantanove. No, un euro e quarantanove. This is it. One minute. Sì. Praticamente lo dovete mettere, vedete, un minuto. Un minuto in testa. E fa il miracolo, praticamente. Ho scritto miracolo. Miracolo. Solo uno li faceva e l'hanno messo in croce. Allora, poi, 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 aspetta, eh. Aspetta, sì, un attimo, e fammi estrarre. Eccola qua. Ecco qua, questo bellissimo pennellino. Questo mi serviva perché non ne avevo. E, ad esempio, puoi spennellare sulle torte salate, l'uovo, piuttosto che l'acqua, piuttosto che qualsiasi cosa, anche sull'arrosto, questo è indispensabile. C'era rosa e verde, verde bottiglia. Però rosa, siccome ho anche il lecca, c'è una zanzara, c'è anche il lecca pentola su rosa. Ci penso io al lecca pentola. Esatto. E, questo è fucsia, invece, il lecca pentola è sul rosa tenue. Comunque, questo attrezzo, in offerta, sempre 0,82 centesimi. Di la cucina. La cucina, ok. Poi, io, essenzialmente, a Action, ci sono andata, ci sono andata per questo motivo. Prego. Prima che mi cascano. Eccoli qui, questi mini smaltini. No, non sono smalti, sono proprio, sono proprio dei gel. Questa è la base di questo, non potete sbagliare perché c'è scritto gelac base ed è azzurro. Allora, questa è la base coat, quindi è la base, quindi con questo kit, con questi quattro, potreste farvi completamente le unghie con la, con la lampada UV che ho visto anche quella in offerta, tipo a 5 euro, una roba del genere. NRA 5,99, lampada UV, quindi base coat for LED e UV, quindi il primo step. Poi, poi vi dico anche che mia cugina ha comprato anche la piastra che costava 9 euro, no, 8,50 euro e l'aspirapolvere blu 34,50 euro. Ok, poi questi invece sono i colori, c'erano solo questi due colori, non so se poi li metteranno ancora, se era un'offerta, se questo tipo di prodotto entrerà in gamma. Quindi abbiamo questo che è un sweet jealousy, che è proprio questo verde menta, verde menta leggero, quindi step 2 e questo è lo step 2. Anche questo è questo rosa, è un rosa antico, molto elegante. Poi se li comprerete tutti e 4 e non sapete da quali partire. Un attimo, un attimo, ancora finito. E questo invece è lo step 3 ed è lo shine top coat, step 3. Non li abbiamo ancora provati, li proveremo ovviamente. Tu li proverai. Io li proverò ovviamente e sapremo dire come sono. Se li comprerete tutti e 4 e non sapete come fare, ma sicuramente li saprete fare, sono numerati 1, 2 e 3. Qui indicano a prova di marketing. No, ma che è a prova di marketing. Vabbè, allora, quindi questi... No, le rimetti lì perché non ho ancora letto il prezzo. Esatto. Questi sono costati 1,39 euro l'uno. Per quanto tipo di prodotto? 9 ml. Ed è vegano. È vegano. Ok, perfetto. Quindi noi dovremmo... Ah no, abbiamo ancora questo tappettino. Il tappetino. Tappetone, che tappetino? Il tappetone che poi noi tagliamo in due e lo facciamo diventare due tappetini perché... Non entra neanche nell'inquadratura. Però noi facciamo vedere questo. Anche questo era in offerta. C'erano diversi tipi di... Tonalità. Tonalità. Tonalità, quella nera. Io ho visto questo sicuro e questo. Questo non l'ho visto e questi non c'erano. Sono quasi andati tutti a ruba praticamente. Esatto. Questo ovviamente si può tagliare, come vedete. È largo 65x180, quindi potete tagliarlo a misura di come lo volete voi. E questo è costato esattamente... Adesso ve lo dico subito. 4,95€ ed era... Ma lascerò qua un attimo ed era assolutamente, ovviamente, in offerta. Però diciamo che il nero difficilmente... È sporchevole. È fatto. Ok. L'ultima cosa che però non posso farvela vedere perché è attaccata al telefono è il... Il PopSocket. Vi metto un'immagine qui dove lo potete vedere. È il PopSocket. Io non so neanche che cosa sta dicendo. È un anello per smartphone. Lab 31. C'era in vari colori. E io ne ho visti soltanto argento e oro. E io ho preso oro. Da 0,99€. Dopo quindi vi metto anche la foto. In teoria dovremmo aver visto tutto. Allora... Aspetta, non ho finito. No, che cosa non hai finito. Poi, vabbè, ve lo faccio... Quindi, per la modica cifra di... Che è stata regalata... Dai miei cugini. Esatto. E noi importunavamo la mamma. Sono circa 15€ per questa... Bestia. È lunghissima. Ve la faccio vedere così. Sono quelle pistole che si caricano con questi stantuffi in gomma eva. Che ovviamente si fanno le battaglie. Poi c'erano le... Cosa c'erano le... Tipo le mezze... Erano i tipo le mezze lattine finte di plastica per sparare, per esercitarsi. E poi... Questo è costato 15,14,95€. Ecco qui. Questa qui è la tavoletta grafica, dove praticamente, vedete, adesso non... Bisogna collegarla a questo cavo, ok? Se la volete... Scusate, eh. Faccio vedere. Se la volete usare, dovete collegarla a questo cavo. Quando avete finito di usarla, la staccate e si spegne. Però... Praticamente è una lavagna luminosa. Una lavagna LED a 4 touch. L'ho provata per due volte. Ho disegnato una mia foto, delle foto quelle incorniciate. E praticamente vi posso assicurare che le disegna benissimo. Continua a mettere davanti le mani perché la... La... Il fuoco sta impazzendo. Lo disegna praticamente benissimo lo stesso. Cioè disegna benissimo tutte... Prova togliela perché me lo stai facendo impazzire. Disegna praticamente benissimo tutte le cose che gli metti davanti. Ok, perfetto. Allora, quindi, tra tutto, quindi abbiamo speso, tra il primo e il secondo... 46 euro. Abbiamo speso, scusate. Ecco qui, vi abbiamo fatto vedere... Quindi con questa panoramica... Tutta la nostra spesa... Esatto, che è costata... Ben 48,65 euro. Più il secondo scontrino. Più il secondo scontrino che è costato ben 10,31 euro. Quindi questa è l'unione di due spese. Di due spese, ecco. Considerate il fatto che questa costava 15 euro e questa costava 14 euro. Quindi 30 euro già solo questi due prodotti. E poi di due, due tovaglie che sono costate 11 euro. Ok, quindi adesso noi salutiamo con questa bella inquadratura per la quale noi facciamo una bella... In fotografia. Eccola qua. Abbiamo fatto una bella foto. Adesso noi salutiamo. Invitiamo tutti. Ciao. Invitiamo tutti al prossimo video.